L'epoca non è fuori gol per il giro di scuola Master ha vinto a giurito dai record, dura tutto dietro a Fuser Fuser città in segno a ristare scavalizzando Berti Ferri Fuser si in possesso del pallone si ferma Ferri ed il gol del 2 a 0 E' il ventattesimo minuto, Diego Fuser segna il sottotitolo La palla sta vengando verso Ferri, Fuser entra in contrasto Grazie a tutti!